che riguarda la parte dei teoremi sulle derivate, sulle funzioni derivabili ma volevo soffermarmi in questo video sull'importanza di Lagrange dal punto di vista delle sue conseguenze grazie al teorema di Lagrange noi studiamo il segno della derivata cioè almeno associamo al segno della derivata il fatto che la funzione cresca o decresca e vi faccio vedere il perché. Non ho intenzione in questo video di fare la dimostrazione del teorema di Lagrange cioè tutto il processo per cui date le ipotesi sicuramente è vera anche la tesi piuttosto vi volevo far vedere in questo video perché le due ipotesi del teorema di Lagrange sono fondamentali per il teorema stesso, sono condizioni necessarie ma non sono sufficienti allora andiamo a condividere il nostro schermo, andiamo a vedere innanzitutto cosa dice il teorema di Lagrange come tutti i teoremi ovviamente è un'ipotesi, l'ipotesi è la seguente io ho una funzione y uguale a f di x che verifica due cose il fatto di essere continua e il fatto di essere derivabile derivabile in un certo intervallo chiamato, chiuso, chiamato AB questa è l'ipotesi la tesi di questo teorema è che esiste un teorema di esistenza esiste un punto c appartenente all'intervallo AB tale che la f' di c è uguale a che cosa? a f di b meno f di a fratto b meno a adesso vediamo il suo significato dal punto di vista geometrico e facciamo vedere perché queste ipotesi sono essenziali per la veridicità di questo teorema stesso cioè se mancano queste ipotesi il teorema potrebbe la tesi potrebbe non essere vera allora prendiamo una funzione tra virgolette tranquilla, normale per esempio anzi facciamola ancora più tranquilla facciamo una funzione che salga verso per esempio l'alto una roba del genere questi sono due punti questo è il mio a e questo è il mio b questa ovviamente diventa la f di a questa diventa la f di b che significato ha questo teorema? da una parte vedete questa frazione che ha un significato è la m della retta che passa per a b a questo b questo cos'è vuol dire la m? l'inclinazione di questa retta della retta che passa per a b a b sono due punti la differenza f di b meno f di a sarebbe questo semento differenza delle y fratto b meno a sarebbe questo semento ti dà l'inclinazione della retta che passa per a b questo è quello che c'è scritto a destra di questa uguaglianza a sinistra c'è scritto tranquilli esiste almeno un punto in cui la derivata prima è uguale a questo valore la derivata prima che significato ha? è l'inclinazione della retta tangente alla curva c'è un punto in cui in mezzo in cui la tangente è inclinata nello stesso modo che la secante esiste un punto qui in mezzo in cui la tangente la derivata vuol dire l'inclinazione della tangente è uguale all'inclinazione della secante tranquilli esiste almeno un punto in cui succede questa cosa allora io non vi faccio la dimostrazione esiste la dimostrazione che vi fa passare da queste due condizioni alla certezza che esiste un punto che verifica queste cose non vi faccio la dimostrazione vi dico solo che queste ipotesi queste ipotesi sono completamente necessarie perché se dovesse succedere che una delle due o tutte e due fossero false la tesi potrebbe essere vera lo stesso ma teoricamente potrebbe essere falsa cosa che in un teorema può succedere quando l'ipotesi è falsa la tesi o è vera o falsa in maniera indifferente quello che non succede mai è che questa è vera e questa è falsa è quella la dimostrazione di un teorema ma che l'ipotesi è una condizione assolutamente necessaria per poter essere vera la tesi la si fa vedere facendo vedere che il falso falso può coesistere infatti cosa potrebbe succedere? per esempio che la mia funzione guarda caso non è continua guarda caso proprio in questo punto perché magari questo punto ha una discontinuità di terza specie c'è un pallino e quindi cosa vuol dire? che non è continua e quindi in questo caso non esisterebbe nessun altro punto dove la tangente è inclinata come la secante oppure invece di non essere continua potrebbe essere non derivabile vabbè se non è continua non è neanche derivabile però magari potrebbe essere continua ma non derivabile perché magari fa una cosa del genere nel punto c c'è una cuspide per esempio e voi avete che nessun punto in questa funzione ha l'inclinazione della tangente come la secante quindi se fossero false tutte e due o una delle due in complesso cioè io posso dire che la mia ipotesi è falsa la tesi potrebbe essere vera lo stesso perché io potrei avere una discontinuità di terza specie qui o un assintoto verticale lì e ce l'ho lo stesso il punto in cui la tangente quel punto è inclinata come la secante però se potrebbe anche invece succedere che con l'ipotesi falsa la tesi diventa falsa ok? perché è importante? allora è importante perché i punti A e B non è detto che siano distanti A e B potrebbero essere due punti assolutamente vicini cioè vicinissimi il punto B potrebbe essere talmente vicino ad A da fare in modo che questa B-A tenda a zero no? la differenza denominatore tende a zero allora quindi vorrebbe dire che tra E e B cioè se B-A tende a zero il punto B tende a sovrapporsi al punto A tendono a essere lo stesso lo stesso lo stesso lo stesso punto il punto e mezzo quindi diventa quasi anche lui se B tende a sovrapporsi con A il punto C tende a diventare quasi il punto A stesso e l'inclinazione della tangente in A è come questa differenza io vi ricordo che questa questo rapporto questo qui si chiama rapporto incrementale B è sempre maggiore di A noi prendiamo B a destra rispetto A se stiamo parlando di un limite destro però in generale prendiamo B maggiore di A se la F di B è maggiore della F di A vuol dire che siamo in presenza di una funzione che è crescente e quindi cosa vuol dire? che in quel punto voi immaginatevi B A quasi sovrapposti quasi lo stesso siamo in presenza di una funzione che in quell'istante sta crescendo io vi dico in quell'istante perché vi sto dicendo facciamo in modo che la distanza tra B A sia una distanza infinitesima quindi non stiamo parlando di una funzione dove la B è maggiore di A però lì in mezzo potrebbe essere successa qualsiasi cosa e vi sto parlando di una distanza tra B ed A infinitesima quindi B è quasi sovrapposto ad A quindi in quell'istante la vostra funzione sta crescendo se sta crescendo lì in mezzo c'è un punto C che ovviamente se B è quasi sovrapposto ad A anche C è quasi sovrapposto ad A avete la tangente che è sicuramente inclinata a un'inclinazione positiva cosa vuol dire? che sta andando verso l'alto quindi dove la derivata è positiva la F di B è maggiore della F di A siete nel caso di una funzione che sta crescendo quindi istante per istante dove la derivata è positiva siete in presenza di una funzione che in quel momento sta crescendo se siete in presenza di una derivata negativa vuol dire che siete in presenza di una funzione che sta decrescendo perché se è negativa vorrebbe dire che la F di B è più piccola della F di A e quindi avete un rapporto incrementale negativo e quindi una F prima di C che è negativa e questo succede quando la F di B è più piccola della F di A cioè siete nel caso di una funzione che sta decrescendo questo anche quando B e A sono in un intervallo molto piccolo B è quasi sopra ad A per dirla in maniera molto soft ok? spero di essere stata chiara anche se mi sono impapinata un attimino un momento perché sono comunque discorsi abbastanza delicati io potrei cioè nelle classi dove magari non faccio proprio la matematica in maniera precisa dove spiego la derivata dico il limite del rapporto incrementale siccome il rapporto incrementale F di B meno F di A fratto B meno A B meno A lo tendiamo sempre positivo perché il punto B lo prendiamo dopo A quindi B meno A è positivo se F di B è maggiore di F di A anche il rapporto incrementale è positivo e quindi lo è anche la derivata così me però in realtà è il teorema di Lagrange cioè tra B e A esiste un punto e mezzo in cui la derivata è come il rapporto incrementale quindi l'inclinazione della retta secante è pari all'inclinazione della retta tangente in un punto lì in mezzo ma se A e B tendono a sovrapporsi il punto e mezzo tenderà a essere il punto A e avete una derivata positiva nel momento in cui siete in prossimità di una funzione che sta crescendo o negativa se sta decrescendo mi raccomando like al mio canale grazie a tutti